L'iniziativa Cento Tappe in Lombardia ha toccato Crema con l'obiettivo di fare punto su problemi e situazioni locali. La riorganizzazione ospedaliera con la richiesta di garantire anche in futuro l'autonomia dell'ospedale maggiore è stato uno dei temi maggiormente evidenziati durante l'incontro che il Presidente Cattaneo e i consiglieri regionali Carlo Malvezzi e Agostino Alloni hanno avuto con 25 sindaci del territorio cremasco. Sull'ospedale abbiamo ricepito prima dalla lettera di 37 sindaci, poi dall'audizione in commissione qualche giorno fa e infine da questa visita oggi e dall'incontro questa mattina con la gran parte di questi sindaci che la richiesta di questo territorio è di mantenere l'autonomia. Tagliati i temi emersi, il completamento della Paulese, la riqualificazione della linea ferroviaria Contreviglio, la chiusura dell'ufficio postale di Umbriano e il ridimensionamento degli sportelli postali di altri 9 comuni cremaschi. Le richieste saranno oggetto di una mozione che sarà prossimamente sottoposta all'esame al voto del Consiglio regionale. A Crema, all'incontro con i sindaci, ha fatto seguito la visita in Duomo e l'incontro con il vescovo Oscar Cantoni che ha esaltato la politica a non avere paura e ad aprirsi verso la mondialità. Alla fine abbiamo condiviso che ci vuole un equilibrio tra il dovere dell'accoglienza e la necessità di garantire la sicurezza, anche con la dovuta prudenza. La delegazione regionale ha quindi fatto tappa alla sede dell'associazione Ampas di Crema all'azienda agricola Caseificio Carioni di Trescore Cremasco, realtà agricola centenaria che grazie al lavoro delle nuove generazioni si è diversificata e potenziata. Nel pomeriggio visita l'azienda Inzori, fondata a Crema nel 1867, e specializzata nella costruzione di organi musicali e trasmissione meccanica. È stato poi il turno dell'azienda cosmetica Lumsum, da 40 anni attiva sui mercati internazionali, con oltre 250 dipendenti, ed è il polo della meccanica di Castelleone che vanta circa 260 addetti e la gruppa oltre 20 aziende in grado di offrire una gamma completa di prodotti e servizi meccanici. La giornata si è conclusa a Ofanengo con un focus group coordinato dal sindaco Giovanni Rossoni che ha coinvolto un centinaio tra cittadini e amministratori locali.